Siamo al segno della bilancia, l'una difficile nel segno del capricorno, però è una luna che parla di affetti familiari. Ecco, è in famiglia che voi recuperate benessere, recuperate anche equilibrio. L'equilibrio è sempre una parola magica quando parliamo di voi bilancini, perché è quello di cui necessitate, quello che rappresenta per voi il benessere, l'equilibrio. L'equilibrio è un equilibrio che potete ottenere proprio all'interno delle pareti domestiche, ma anche nel rapporto con il partner, che sembra essere particolarmente appagante in questo momento. Andiamo al segno dello Scorpio.